Se dovessi chiudere questo video in un modo direi la seguente cosa Godiamoci i processi Hola! Benvenuti in un campo verde in Vietnam Che vuole questo modamente? Can you do... dopo? Ok? Dopo 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 Ok? Benvenuti nuovamente nel format più ambito di tutta YouTube Ma non Italia, proprio mondo Format del mio diario Per chi non lo sapesse Questo è il format dove in maniera totalmente spontanea Senza nulla di preparato Vi dico un po' quello che sta andando Quello che non sta andando Senza filtri Senza capire bene dove si va Proprio come un diario Dove uno scrive Non sai cosa stai scrivendo E poi alla fine si traggono delle conclusioni Sono in questo momento in un bar in Vietnam Direi di cominciare Rispondendo all'unica domanda che c'è in questo format Che poi ci trascina ovunque E la domanda è Come sta andando? Vi devo dire la verità Mi sento molto tranquillo Sento che A differenza dell'inizio Che avevo un bel po' di roba da scardinare A livello di come fare le cose Come non fare le cose Che poi tutto aggiunto ad ansie, paure, preoccupazioni Stress Non dormire, non fare, non dire Adesso possiamo dire che Me la sto quasi chillando E un po' alla volta Mi sto direggendo con la moto Sempre più verso la metà finale Che a Onoi E non avendo mai fatto un tragitto così lungo in moto Ho cominciato ad andare in ansia Della serie Sono un sacco di chilometri E' vero che ci manca ancora 30 giorni Ma c'è un sacco di chilometri da fare Probabilmente non ce la faccio Se non mi muovo Poi mi sono mosso Sono andato abbastanza spedito La prima volta ho fatto 200 chilometri Poi 300, poi 200 Poi mi sono reso conto che Cioè manca ancora un sacco di tempo E se vado di questo ritmo Cioè ci arrivo dopo domani A Onoi Nonostante debba fare ancora 1100 chilometri E qui emersa Mi hanno portato da bere Uh Mirtilli Oreo Panna Buono Un euro Cazzo se è buono Ma ritorniamo a noi E qui mi sono reso conto Con questo nuovo step di viaggio Del fatto che Molto spesso Ci sono delle ansie immotivate Legate al fatto che Non abbiamo mai tempo Mai tempo Mai tempo Mai tempo E poi in realtà Il gap Che ci divide Da una cosa È enorme Quindi La verità è che Non è che Non abbiamo tempo Ma Lo gestiamo male E pensandoci bene La cosa figa Di tutto sto viaggio In realtà è proprio questo Ovvero il fatto che In tutti questi mesi In tutti questi giorni Ho sperimentato Tante di quelle cose Facendo tante di quelle cose Diverse fra di loro Che è inevitabile Che è inevitabile Il fatto di capire Sempre più cose E fare dei step successivi Ed è una figata E infatti Mi sono reso conto Che se qualcuno Guarda il mio canale Adesso dall'esterno Potrebbe definirlo Un canale dove si viaggia Un canale dove Dove questo Dove quello Dove quell'altro Però alla fine La verità È che se uno dovesse dire Giulio Testa Che cosa fa su YouTube? Probabilmente La risposta sarebbe Boh Nel senso che Mi rendo conto Che non ho ancora Una targettizzazione Ben specifica E se da un lato Questa cosa è un problema Perché uno dei tanti modi Per emergere su YouTube È parlare di argomenti specifici Dall'altro È una figata Perché in realtà Quello che sto facendo adesso Non è tanto Esplodere su YouTube Anzi vi dirò la verità Se esce un video virale Bene Siamo contenti Però In questo momento Non so Quanto potrebbe servire al canale Poiché È un momento ancora Di esplorazione Non è più un momento di prova Il Giappone era Un momento di prova Adesso è un momento Di esplorazione Un momento dove sto provando A fare tutte le cose Possibili e immaginabili Tutte le cose Mi vengono in testa Per poi Successivamente Fare delle cose Ben specifiche Ed è una figata Però allo stesso tempo Un po' come Questo viaggio in moto Verso Aonoi Dove all'inizio Avevo fretta Di andare Di andare Di andare Di andare Quando in realtà Potrei Invece di fare 300 km Alla volta Potrei fare anche Non so 50 km al giorno Che sono nulla Oppure potrei fare Di botto In un giorno 500 km Cioè Posso gestirmela In tanti modi La cosa figa È che Non c'è nessuna fretta Che fretta c'è? E può sembrare Forse una cosa Banale Ma è proprio quello Che mi sta facendo godere Questo processo Prima pensavo Faccio un video Poi Registro quello dopo Poi quello dopo ancora Poi quello dopo ancora Poi quello dopo ancora Così ho 20 video in archivio E poi vado avanti 20 video Vado avanti Vado avanti Adesso invece Sto facendo Una cosa molto Diversa Quasi l'opposto Ovvero Il mio compito Non è più Riempire l'archivio Di contenuti Che poi verranno pubblicati Il mio compito È quello di Far sì Che ogni video Che realizzo Sia Al meglio Che posso fare In quel giorno Da un mio punto di vista Un passettino alla volta Sto proprio Cambiando la prospettiva Da Devo fare Devo fare Devo fare A Questo È il mio compito Di oggi Il mio unico obiettivo È fare questo compito Al meglio Tutto il resto Finché non finisco questo Non esiste Invece prima Pensavo A Già 3000 step successivi Ed è bello Ed è Una cosa bellissima Perché Prima non ce l'avevo L'ho sempre evoluta Questa cosa Però è un po' come Tutte le cose Che vogliamo Parlo anche Di Di come noi ci Rapportiamo Alle cose che facciamo Sarebbe fantastico Dire Voglio fare questa cosa Voglio comportarmi In questo modo E fare così Pam E lo fai A volte può capitare Però nella maggior parte Dei casi Non è mai immediato È sempre Un processo Lento Che Ti porta A quell'obiettivo lì Un processo Lento Che Vale la pena Godersi E sapete che Se dovessi chiudere Questo video In un modo Direi La seguente cosa Partendo dal presupposto Che come ben sapete Le riflessioni finali Le riflessioni finali Dei video Non sono mai Dei consigli Ma sono Degli inviti Indiretti Che faccio A me stesso Che condivido Con voi Quindi Decidete voi Se prendere qualcosa Da queste cose A non prendere niente E l'invito Che faccio a me stesso Oggi E condivido con voi Dopo tutta questa Questa riflessione Così È Godiamoci processi Godiamoci Il fatto di Fare al meglio Quello che possiamo Fare Oggi E poi ricominciare Una cosa nuova Domani Senza pensare A domani Oggi E così via Perché facendo così Accumulando roba È solo un casino Detto ciò Da questo tramonto Fantastico Del Vietnam È tutto Sto coso È talmente buono Che mi sarebbe Ne faccio un altro Unico Il tente È tutto Come Il tente Le tente Di Le tente E Da questo Aw Il tente Av